Carlo, stai guardando la partita? So Sky Ciao Ehi, scommetto che non hai visto l'ultima stagione di CSI Ah, l'hai vista, so Sky Oh Gianni, quanto tempo, che fai? Stai guardando un film, so Sky Ciao, sono Marco, terza F Va bene, va bene, ciao, 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 ciao Come sta Luciano? Laura, Laura Ti ricordi Campo Scout? Nonna! Tu ce l'hai Sky? Trova un amico che non ha Sky Se si abbona subito, avrai fino a 100 euro di sconto sul tuo abbonamento Chiama 199 100 800 Te che fai? Guardi Sky Ah, non ce l'hai? Ma che piacere sentirti!